Benvenuti, benvenuti a voi tutti ancora una volta a quest'altro appuntamento con 100 voci. Oggi ho il piacere di incontrare nei nostri studi il giudice Michele Nardi, qualcosa sul nostro ospite, lui è magistrato dal 1991, sette anni ha svolto la sua attività presso l'apertura dei Trani, poi GIP e giudice a Latere nella Corte d'Assisi, come ha partecipato al processo Dolmen contro la Sacra Corona Unita. Attualmente svolge la sua attività alla Procura Generale a Roma e fa parte anche come esperto, come formatore, docente del Gris. Il Gris è un gruppo di ricerca di informazione socio-religiosa che si interessa di capire i fenomeni di satanismo o meno. Questo è un argomento che affronteremo poi nel corso di questa nostra intervista, questo nostro incontro. Allora, giudice, intanto grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Che significa essere magistrato? Che significa essere giudice? Per me è stata sostanzialmente una vocazione nata dal mio padre, mio padre anche lui è magistrato, per me è stato quasi naturale, visto l'abbirazione che avevo nei suoi confronti, cercare di seguire le sue orme. Anche se devo dire che mio padre mi ha sempre scoraggiato nel farlo, perché ha sempre detto, guarda, essere magistrato significa essere un cittadino di serie C, perché è quello che possono fare gli altri e tu non lo potrai fare. Cosa intendeva? Nel senso che quello che possono fare gli altri liberamente, mancano le cose banali, cose diciamo di tutti i giorni, cose della vita, se le farai tu avranno una risonanza diversa, saranno colte, guardate, esaminate. Mi faceva questo esempio, se entri in un negozio non potrai chiedere lo sconto, perché il negoziante che è di fronte sa che sei un magistrato e potrebbe sentirsi intimidito. Un cittadino normale può chiedere lo sconto, tu non lo potrai fare. E io ho seguito questa regola, ho cercato di seguire sempre questa regola fondamentale, ma questo non mi ha fatto sentire un cittadino di serie C, mi ha fatto semplicemente sentire un cittadino che ha deciso di servire un'idea, una collettività, un'istituzione. I tempi in cui ho scelto di fare il magistrato erano i tempi anche di Giovanni Falcone, cui ho conosciuto attraverso mio padre che era suo amico, erano i tempi in cui i magistrati venivano uccisi per il loro impegno. E quindi quella scelta fu una scelta di campo, netta, fu una scelta di vita, fu una scelta forte. Da che parte stare? Da che parte stare? Perché penso che la vita alla fine sia proprio questo, scegliere da che parte stare, in ogni momento. C'è quella famosa frase guardia o ladro? No, non è questione di essere guardia o ladro, non voglio essere guardia e ovviamente neanche ladro, voglio semplicemente offrire la possibilità di creare le condizioni per un mondo migliore. Ho pensato che ognuno ha il suo campo, può farlo ovviamente, io ho ritenuto che questo fosse il mio campo elettivo, per cercare di rendere i nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri. Se in una generazione non si pone questo obiettivo, è una generazione che ha fallito e questo senso di fallimento credo che sia la sensazione peggiore che si possa provare da uomini. Sostanzialmente è la difesa e il rispetto delle regole, le regole precostituite, questo è un po' il compito della giustizia, quello di far rispettare le regole. No, io penso che sia molto più di questo. Vede, se ci limitassimo all'idea che bisogna far rispettare le regole, cadremmo in quello che è il cosiddetto positivismo giuridico, pure semplice, che ha avuto grande fortuna nel pensiero filosofico assoluto italiano. Bobbion è stato un sostenitore almeno fino a poco prima, fino agli anni 80, poi ha cambiato idea, per fortuna. Ma vede, anche Auschwitz si basava su delle regole scritte, anche la deportazione degli ebrei o le leggi razziali, erano leggi formali. Quindi non ho visto mai la mia professione come far rispettare le regole, non solo un semaforo. C'è qualcosa di più, ho sentito che c'era in me un'esigenza di giustizia. A volte quella esigenza di giustizia va contro le regole scritte e bisogna cercare quindi, e qui l'attività dell'interpreta, del magistrato, di far sì che quella norma scritta produca la maggior quantità di giustizia possibile. Ma quando un giudice a servizio dello Stato dovrebbe far rispettare, deve far rispettare le regole dello Stato, parte lo Stato in cui appartiene, a meno che, voglio dire, i giudici di Hitler erano comunque dei magistrati, comunque erano dei giudici che applicavano quelle regole che contrastavano ovviamente con la città. Grazie a Dio noi viviamo in uno Stato democratico. È uno Stato democratico che è nato dopo l'esperienza di Auschwitz. Io parlo dell'esperienza di Auschwitz perché nel pensiero filosofico giuridico questo è la pietra di discrimine. Dopo è venuto quello che noi chiamiamo il neocostituzionalismo ed è venuta anche la nostra Costituzione, che è un patrimonio culturale immenso che non finiamo mai di scoprire. Una per esempio delle scoperte più recenti del pensiero filosofico e giuridico contemporaneo è proprio l'articolo 2 della Costituzione, in cui si dice espressamente che la Repubblica riconosce i diritti fondamentali e inviolabili dell'individuo. Vedete, il momento in cui dice riconosce significa che questi diritti fondamentali e inviolabili preesistono alla Repubblica, anzi sono il fondamento della Repubblica ed sono talmente evidenti e solari che la Repubblica, intesa come il complesso delle istituzioni, Stato, Regioni, Comuni, la comunità sociale non può che accettare che esistano e adeguarsi perché sono inviolabili. Questo significa aprire il nostro sistema al diritto naturale come fondamento ultimo e il diritto naturale è propriamente la ricerca della giustizia. Quella che nella grande tragedia di Sofocle era il contrasto fra il nomos grafos, c'è la legge scritta, e la fiusis, cioè appunto il sentimento di giustizia e di virtù che in Antigone esplode drammaticamente perché vuole seppellire il fratello, ma il fratello è stato condannato per tradimento e quindi non può essere seppellito. Ma lei sa che ogni essere umano ha diritto ad essere seppellito. Questo concetto, ovviamente molto bello, molto umano, non si contrasta un po' con la realtà di tutti i giorni. Di fronte a un delinquente incannito, di fronte all'assassinio, di fronte ai crimini più efferati, come si fa a mantenere questo giudizio, questo equilibrio? L'equilibrio si mantiene partendo da due consapevolezze. La prima è che noi magistrati non siamo giudici di uomini, solo Dio giudica gli uomini. Noi giudichiamo singole azioni e dobbiamo discernere e distinguere con il bisturi. L'uomo che merita assoluto rispetto, chiunque questo sia, fosse Hitler in persona, dall'azione che ha compiuto. Come in un esame cadaverico noi dobbiamo sezionare e guardare soltanto l'aspetto patologico, quell'azione. Il nostro non è un giudizio sulla persona, ma un giudizio su quell'azione. E poi ricordarsi anche un'altra cosa fondamentale, che a volte è soltanto per il caso o per la volontà divina, per chi ci crede, che io stia seduto di qua e l'imputato stia seduto dall'altra parte. Per questo il rispetto che si deve all'imputato deve essere superiore al rispetto che ho per me stesso. Se un giudice non fa questo, non fa bene il suo mestiere. Ma per quanto riguarda il criminale, per quanto riguarda la mente criminale, parliamo di mente criminale, questo non può suscitare un senso di potenza, nel senso che il criminale dice ma tanto non rischio moltissimo, psicologicamente si sente più forte. Non ho detto che questo significa essere indulgenti, anzi forse a chi si ricorderà ancora quando ero all'apertura di Corato, ero noto per essere abbastanza severo, per essere molto severo rispetto alla media dei magistrati della zona, nell'erogazione delle sanzioni. Significa sufficientemente rispettare. Una cosa è condannare, altro è rispettare l'uomo. Noi dobbiamo avere carceri civili, non dove la sanzione diventa il fatto di essere ammassati o sottoposti alle violenze degli altri detenuti, ma deve essere la privazione della libertà. E non dobbiamo mai dimenticare che non soltanto la pena deve essere rieducativa fondamentalmente, ma che lo stesso diritto e la sua complessità deve avere una funzione di guida dell'intera società e non di repressione. Perché la giustizia non è mai un fine, la giustizia è uno strumento. L'unico vero fine di uno Stato civile è l'uomo, l'uomo con la sua dignità e il suo destino di felicità. Ma di fronte agli ultimi eventi di assalti alle ville, di ammazzamenti di persone innocue, insomma la gente si chiede una reazione ferma da parte. La reazione ferma deve essere l'applicazione delle regole, secondo le regole della procedura e del diritto. La reazione dello Stato deve essere sempre una reazione non emotiva e il magistrato, le forze dell'ordine che in quel momento rappresentano lo Stato non devono essere portatori di una reazione emotiva, altrimenti non ci sarebbe distinzione fra la giustizia della vendetta. E noi abbiamo messo 3.000 anni per distinguere la giustizia dalla vendetta. Dai tempi della legge del taglione siamo arrivati invece alla giurisdizione, al giurisdicere, cioè appunto a una pronuncia fredda e non emotiva, ma razionale sui fatti. Vedi a me è capitato in 25 anni di professione di affrontare situazioni con crimini tremendi, ma anche di verificare che gente è accusata di crimini tremendi e poi è risultata innocente. Ecco perché dobbiamo avere sempre cautela e valutare non emotivamente, ma sempre in maniera molto razionale. Presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza è un fondamento di civiltà senza la quale noi viveremo in uno Stato di polizia, in una situazione di repressione continua. Il diritto non serve a limitare la libertà, il diritto serve a presidiare e a garantire la libertà. Se non fa questo viviamo in uno Stato totalitario, non democratico. Un altro tema che in questo periodo sta molto a cuore degli italiani è la legittima difesa. Ecco, io mi chiedo sempre qual è il confine della legittima difesa, cioè che cosa… Guardi, la legittima difesa è un grande problema perché purtroppo è uno di quei temi del diritto investito dalla polemica politica. E quando c'è polemica politica, ideologica, per altre cose, è difficile poi avere una valutazione fredda della norma. Noi abbiamo una norma molto precisa nel nostro codice, però viene applicata in maniera differente a secondo del magistrato, a secondo del luogo, a secondo della posizione geografica in cui avviene il fatto. E le norme sono molto precise, a prescindere, chiaramente lei si riferisce probabilmente prevalentemente all'ipotesi della legittima difesa abitativa, cioè di quando uno si trova il ladro in casa, che è un caso specifico previsto, introdotto con la modifica di qualche anno fa all'articolo 52 sulla legittima difesa. Cioè sostanzialmente, che cosa dice la legge? Dice che se io mi trovo qualcuno in casa, posso reagire, se l'azione del ladro è in atto, posso agire per difendermi. E lì sono libero dall'obbligo di proporzionalità fra l'offesa e la mia difesa. Cioè in sostanza, se io mi trovo qualcuno in casa vicino al letto, mentre sto dormendo e gli sparo, questa è legittima difesa. Anche se poi si scopre che quel ladro non aveva una pistola, ma aveva in mano soltanto un manganello, magari un altro atto, un altro oggetto da offendere. Perché in quel momento non occorre più la proporzionalità fra offesa e difesa. Viene meno questa esigenza. Però tutti i casi che vengono alla cronaca sono casi che i giornalisti riportano molto male. Ecco perché suscitano confusione della gente. Cioè si tratta di ipotesi in cui il padrone di casa ha sparato con il fucile a ladri che stavano uscendo da casa. Quindi l'azione, l'attacco non era in atto, ma era cessato. E infatti sono tutti ladri, rapinatori, attenti alle spalle. Ecco, non si può sparare alle spalle di un uomo. Questa è una regola fondamentale. Bisogna spararli di fronte. Perché se è di fronte significa che è l'attacco in atto, in casa mia. E io posso difendermi. Perché viene meno l'obbligo della proporzionalità. Ma se sta uscendo da casa mia, l'attacco non è più in atto. E non posso usare quindi il fucile, non posso spararlo. Perché in quel caso commetto o un eccesso di legittima difesa o addirittura un omicidio volontario, a secondo dei casi. Un altro tema che mi piace chiederle. Il timore, la paura di svolgere il suo lavoro. La paura di terminare, della sua vita. Guardi, ho passato momenti difficili quando ero qui a Trani. E' il motivo per cui poi circa dieci anni fa fui indotto e aiutato dal Ministero ad andare a Roma all'Ispettorato Generale, dove sono stato sei anni. Celebrando vari processi, è capitato anche di avere i miei figli che andavano l'asilo accompagnati da uomini armati, per proteggerli. E quindi questa situazione di pericolo la conosco bene. Ma fa parte del mestiere. Come reagisce? Guardi, l'ho messo in conto, non me l'ha chiesto mica il medico di fare il magistrato. Ho scelto io volontariamente e avendo avuto mio padre, che ha vissuto le stesse cose prima di me, l'ho fatto in maniera assolutamente consapevole. Con i suoi figli ne ha parlato di questa cosa a casa, che c'è questo enorme rischio per lei? Adesso grazie a Dio forse non c'è. No, i miei figli sono grandi, l'hanno messo in conto. Devo dire che mio figlio, manifestato, fa il primo anno in giurisprudenza, vuole fare anche lui il magistrato. Non so se augurarglielo meno, ma evidentemente non li ha spaventati molto questa cosa. Un altro suo aspetto, la sua attività, che mi piace anche questa sottolineare, lei è docente presso il Gris. Il Gris, lo ricordiamo, è il gruppo di ricerca di informazione socio-religiosa che si interessa dei problemi di satanismo. Quindi una specie, se mi permette, come definizione, di esorcista laico. No, diciamo che mi sono occupato di insegnare fondamenti di diritto penale internazionale e diritto penale in genere, comparato presso l'Università del Vaticano, l'Università europea, a quello che viene annualmente fatto da un'Università europea, cioè un corso di formazione a tutti gli esorcisti del mondo. Che tipo di formazione? È una formazione complessa, dove ci sono varie materie e mi hanno chiesto di tenere in questi ultimi anni, in questo seminario di diritto penale. Perché molto spesso gli esorcisti vanno incontro a questioni di diritto penale e anche a responsabilità. L'esorcismo a volte impone, ad esempio, l'uso di mezzi di contenzione rispetto al posseduto, comporta ad esempio la necessità di acquisire il consenso dei genitori, è il caso di un minore. E poi ci sono stati dei casi in cui purtroppo durante l'esorcismo il posseduto o ha fatto atti di autolesionismo oppure ha compiuto atti di lesionismo. E quindi chi è responsabile rispetto a un soggetto in quel momento incapace di intendere di volere. Quindi c'è una serie di problemi complessi, nati soprattutto da un caso famosissimo che poi è stato trasportato nella finzione cinematografica, in un bellissimo film, lo consiglio a tutti di vedere, che è l'esorcismo di Emily Rose, che è ambientato in America, ma in realtà il fatto è avvenuto realmente in Germania negli anni Sessanta. E riguarda una ragazza che è morta in odore di santità, perché voglio dire che non è chi è posseduto è un indemoniato, nel senso che è preso dal demonio. Molti santi sono morti posseduti. Questa è una cosa molto particolare. La possessione è un male e il male molto spesso viene consentito da Dio per metterci alla prova. Può essere un male fisico, un male psicologico, in questo caso un male spirituale, ma viene consentito da Dio per metterci alla prova. Ci induce una sofferenza. Il posseduto è una persona che soffre immensamente e quindi questa sofferenza è una prova. Questa ragazza, dicevo, morì durante un esorcismo. Era ormai scarnificata dalla possessione. Questa possessione l'aveva ridotta uno scheletro, non riusciva più a nutrirsi da troppo tempo. Dopo diverse decine di esorcismi, nel corso di uno di questi, morì. Non ricordo se ebbe un collasso radiocircolatorio oppure si gettava una finestra. Questa ragazza ha scritto un diario bellissimo, fra le altre cose, in cui diceva che aveva la visione della Madonna, che le diceva io ti posso liberare se vuoi, oppure puoi sopportare questo dolore per la salvezza dell'umanità. E lei accettò di sopportare fin in fondo questo dolore come riscatto, diciamo, dei peccati dell'umanità. E chiaramente sono pagine di mistica estremamente belle, per chi crede, ovviamente. Ovviamente ci troviamo a dire che il mio interesse sorge anche perché come sostituto procuratore a Roma, a parte la vicinanza del Vaticano, ovviamente, è capitato, mi sono capitate delle delle indagini che riguardavano sette sataniche. E quindi lì è emerso tutto un mondo molto particolare, col quale devi confrontarti, che devi capire, devi comprendere e che è del tutto veramente nascosto. La gente non può sapere, non sa e non immagina quanto siano pericolose e attive queste sette sataniche. Secondo il Ministero degli Interni, oggi in Italia abbiamo sicuramente un milione di persone iscritte a sette religiose di vario tipo, sette pseudo cristiane, pseudo pagane, sette new age, eccetera. E poi abbiamo circa fra i 10 e i 50 mila adepti di sette sataniche, vere e proprie, che spesso, purtroppo, compiono atti criminali. Ecco perché vengono in rilievo anche nel lavoro del magistrato. Basti pensare all'episodio delle bestie di Satana, il caso più eclatante che abbiamo avuto, dove quegli omicidi sono stati fatti per un motivo satanico. Ma se noi andiamo a scavare, molti omicidi famosi, clamorosi, gli ultimi anni sono avvenuti per questo motivo. Probabilmente c'è stata questa motivazione in tanti infanticidi che non si spiegano, perché l'infanticidio è un classico modo di fare un'offerta a Satana. Quindi c'è questo lavorare insieme con l'aspetto patologico e l'aspetto giuridico. Il confine è labile, perché molte volte l'uno incontra l'altro, c'è questa mescolanza tra l'aspetto patologico e l'aspetto giuridico. Cosa si può fare per in qualche modo prevenire queste situazioni? Se non c'è proprio la spesa, non è proprio il fatto di… Sì, tanto per cominciare, la possessione deve essere certificata soltanto dopo che sono stati esperiti, se parliamo proprio di discernimento tra possessione e malattia mentale, la possessione è soltanto un caso su mille, gli altri 999 sono casi di disturbo mentale. Devo dire che questa scuola del Vaticano, seguito, sono esorcisti di tutto il mondo, ma non soltanto esorcisti cristiani, perché l'esorcismo non è cristiano, l'esorcismo è una pratica pre-cristiana, è una pratica diffusa in tutte le regioni del mondo, anzi i più grandi esorcisti erano i rabbini ebraici, l'esorcismo c'è nell'Islam, l'esorcismo viene operato dagli shintoisti in Giappone, dagli Hindu, dappertutto, in tutte le parti del mondo, in qualsiasi religione esiste l'esorcismo, nell'animismo addirittura dei pelle rosse indiane. Per cui da sempre c'è questa idea che si creano delle energie negative, delle forze negative, ecco quello che noi chiamiamo il male, di cui facciamo esperimento tutti i giorni e che si cerca di arginare attraverso pratiche mistiche. Ora, ripeto, in caso di possessione o di vessazione o di ossessione, sono tre ipotesi diverse, la vessazione quando uno subisce, tipo Padre Pio che veniva aggredito dal demone, oppure subisce anche cose stupide, tipo il nascondimento degli oggetti, la perdita di cose, poi c'è l'ossessione quando questo spirito induce dei pensieri continui, in un certo senso, e la possessione e la perdita proprio di controllo, quindi sono tre diversi tipi di contatto che si può avere con il male. La maggior parte delle volte, ripeto, 999 volte su mille, si tratta di episodi di schizofenia o episodi di paranoia e quindi vanno affrontati allo psichiatrico, tant'è che a questo corso ci sono molti che sono, il 50% sono sacerdoti di varie religioni, il 50% sono avvocati e psichiatri che vengono tutto il mondo, perché lo psichiatra e l'esorcista devono lavorare a stretto contatto, perché lo psichiatra è il primo che deve fare il discernimento. Come si distingue poi la fine? Si distingue perché nel fenomeno paranormale, possiamo chiamarlo così, nel fenomeno psichico spirituale si verificano dei fenomeni che non sono spiegabili per natura, come la lettura del pensiero. L'esorcizzando in genere detesta, non sopporta che vengono pronunciate delle formule religiose o delle preghiere dinanzi a lui. Hai assistito a queste? Sì, purtroppo sì, è stata un'esperienza che fu abbastanza toccante. E dicevo, uno dei modi, certo la reazione alla preghiera può essere una reazione isterica, però se la reazione avviene quando semplicemente il sacerdote prega nella mente e quindi non può sapere, esorcizzando cosa sta succedendo, se non attraverso una funzione parapsichica e si innervosisce per le preghiere che nella mente recita il sacerdote, per esempio questo è un fatto. Oppure c'è la conoscenza di fatti nascosti, oppure ancora la conoscenza di fatti passati che non potevano essere conosciuti. Il parlare altre lingue, che non è una cosa stranissima. Guardi, se lei frequenta semplicemente un gruppo di carismatici, mia figlia, sedicenne, fa parte di un gruppo di carismatici, ha assistito varie volte a persone che, prese dallo spirito, parlano altre lingue, lingue sconosciute, greco, latino, eccetera, ha assistito tranquillamente a queste cose, quasi quotidianamente quando si riuniscono a pregare. Questi fenomeni, ecco, non sono spiegabili. Certo, se uno ha un approccio eminentemente razionale, tutto è spiegabile. Fino al punto di dire ciò che non spieghiamo oggi con la scienza, lo spiegheremo fra cent'anni. Questo è un approccio, ma è un approccio ideologico. Siamo nell'anno della misericordia, visto che abbiamo affrontato questo tema. La giustizia ovviamente è divina e diversa dalla giustizia degli uomini. Che difficoltà c'è per un giudice, per un magistrato, è applicare il concetto di giustizia divina, quindi di misericordia. Come dicevo prima, la giustizia non può mai essere fine a se stessa e deve avere una funzione, una funzione di far capire, innanzitutto, chi ha sbagliato, dove ha sbagliato. Io, in questi 25 anni, molte volte è capitato, mi sono stati affidati degli uditori e nello spiegargli come si fa il magistrato, l'ho spiegato come l'hanno spiegato a me. E ciò è che volte e volte, oltre a dargli la condanna giusta, va preso in disparte e gli va fatta, mancavi una lavata di testa, buon'aria, dicendo ma che cosa hai combinato, che cosa hai fatto. Non è un atteggiamento da parroco, è semplicemente il porre la giustizia allo stesso livello che l'imputato. Dopo che c'è stata l'accertamento della verità e dopo che c'è stata l'irrogazione della pena, l'imputato non può essere lasciato solo con la sua condanna, perché altrimenti nutre solo il risentimento verso la giustizia. Deve invece capire che la giustizia lo accompagna in un percorso di rieducazione, che quella sanzione serve a lui, non allo Stato, a lui per riabilitarsi nei confronti dei consociati, perché si possa presentare ai consociati, ai fratelli della comunità, dicendo io ho pagato le mie colpe e forse in questo senso sono anche migliori di voi, che non essendo stati beccati non avete pagato le vostre colpe. Grazie Giudice, io volevo un'ultima cosa, hai mai pensato di scrivere un libro, visto che molti suoi colleghi... Ma io ne ho scritti tanti libri, ma non mi piace... Su questo tenore insomma... Ho scritto tanti libri in materia giuridica... Sì, ma diciamo quasi narrativi... I romanzi non sono il mio genere, anche perché poi... So che lei ha scritto dei libri abbastanza specifici... Sì, ne ho scritto uno recente, è stato pubblicato, proprio ieri ho fatto una conferenza di presentazione a Rotary di Canosa, è stato un libro di ricerca storica sulla Santa Inquisizione, ne sto scrivendo un altro, che spero di prossima pubblicazione, sul diritto naturale. I romanzi lascio a chi ha da raccontare storielle o da raccontare storie piccanti, a me piace fare delle riflessioni che possano lasciare il segno in chi legge, che possano dare un contributo al dibattito culturale. I romanzi li scrive chi vuole fare i soldi con i libri, a me non è mai interessato. Grazie Giudice, grazie tante. Io ringrazio ancora una volta il nostro, possiamo dire, amico... Senz'altro. Dottor Michele Nardi per la sua testimonianza, il suo racconto della sua esperienza, di questi suoi 25 anni. Noi speriamo che in qualche modo, come dico sempre, i nostri incontri possono servire a farci riflettere e a ragionare su questo nostro percorso di vita, su quello che siamo e su come ci muoviamo. Quindi grazie ancora una volta all'appuntamento, come al solito, per una prossima puntata. Grazie a voi tutti.